Le alte temperature mettono a dura prova il fisico. Da settimane negli ospedali si seguono appositi protocolli dedicati. Per ora però non ci sono stati aumenti di accessi in pronto soccorso a Padova dovuti a colpi di calore o disidratazione. Segnale che le regole di buon senso, spesso ripetute, hanno sortito il loro effetto. Ovviamente i più esposti restano gli anziani e le categorie fragili per le quali il caldo e l'afa spesso acutizzano patologie pregresse. Per quanto riguarda la patologia legata al calore, in questo momento non abbiamo un aumento del numero di chiamate legate a questa problematica, ma sicuramente la patologia da calore può peggiorare delle situazioni presistenti, soprattutto nei pazienti fragili. E siccome è ripetita Juvent, i consigli sono quelli di bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, evitare di uscire nelle ore centrali quando le temperature sfiorano i 37 gradi. Il caldo porta molti cittadini anche ad utilizzare scooter e moto invece della macchina e in pronto soccorso in questi giorni sono aumentati gli accessi dovuti alle cadute. L'attività del 118 di Padova in questa prima metà di agosto ha comportato un aumento dell'attività di soccorso per quanto riguarda la patologia traumatica. E tra le missioni di risoccorso, che sono circa 3 al giorno, delle automediche e dei mezzi della provincia, abbiamo soccorso circa 24 traumi gravi. Per quanto riguarda il numero delle chiamate, sono circa 500 di media nelle 24 ore per circa 230 soccorsi nelle 24 ore. Massima attenzione anche per le zanzare. Da inizio estate sono stati 11 casi di West Nile nel Padovano, il virus trasmesso dalla puntura della zanzara comune, che in alcuni casi porta forme neurologiche invasive, specie negli anziani e nei soggetti fragili. Anche in questo caso i consigli sono sempre gli stessi, usare repellenti, abiti lunghi se si esce nelle ore crepuscolari e tenere sempre le zanzariere abbassate.